Tato di parità a Bologna tra i rosso-blu padroni di casa e Granata del Torino stasera in maglia bianca. 2-2 il punteggio finale al termine di una partita giocata a ritmo sostenuto per tutti i 90 minuti con toni agonistici elevati e sovente spigolosa e nervosa. In apertura di gioco l'arbitro Menicucci ha fatto osservare un minuto di raccoglimento in memoria del vicepresidente del Torino Giovanni Traversa, scomparso proprio ieri dopo una breve malattia. Di fronte stasera due squadre che dalla Coppa Italia si attendono soddisfazioni. Il Torino per compensare un campionato pieno di delusioni e il Bologna per cercare un ingresso in campo internazionale dopo un brillante torneo iniziato con l'handicap della penalizzazione. In vantaggio il Bologna dopo 18 minuti. Pileggi in possesso di palla viene atterrato in area da Cottone, il rigore assegnato da Menicucci è trasformato da Paris. Al ventiquattresimo il bolognese Marocchi ha una palla gol ma il compagno di squadra Eneas si intromette e l'azione sfuma. Pareggia il Torino al trentunesimo, il merito del gol di Graziani che con una prudezza rimette al centro per Sclosa il quale non ha problemi a battere Zinetti. Prima del riposo Mariani viene sostituito da D'Amico. Al ventinovesimo della ripresa è proprio D'Amico a procurare il momentaneo vantaggio del Torino. La sua punizione non viene trattenuta da Zinetti e la palla finisce nella rete del Bologna. Sei minuti dopo il pareggio del Bologna che fissa il punteggio sul 2 a 2. Paris offre un bel pallone a Garritano che di testa supera Terraneo.